L'alza campanile dove c'è Nellica e la domestica in maniera eccellente, lancio d'esterno per Gonzi è spettacolare, si sovrappone Capoferri, Gonzi rientra, attenzione al limite, il tiro, il pallone in mezzo, la deviazione, è gol, è gol di Persia, 2 a 1 per noi, stavolta la fortuna è arrivata a noi, il tiro di Gonzi, la deviazione di Persia è diventato un assist per se stesso, che al 52esimo porta in vantaggio il Piacenza a Trento, 2 a 1 per i biancorossi. Ribadisco, un bel cambio di gioco, pazzesco, da parte di Nelli la palla per Gonzi che arriva al limite, il tiro, passa davanti, Persia che cerca di alzarsi per far scorrere il pallone, la palla gli rimane lì e trova il gol facile, ribadisco. Stavolta è andata bene a noi come al Trento è andato bene nell'occasione del primo gol, ci vuole qualcosa che giri, ma questo Piacenza per fare girare la ruota della sua parte ci sta mettendo anche tanto, 2 a 1 per il piace.